Il tema degli ultimi giorni è l'ampliamento della Casa della Salute. Si ritorna a una struttura che può essere completa per la città di Vallefoglia e non solo? Io nei miei diversi ruoli di questi anni ho sempre fatto una grandissima battaglia per avere quei due milioni di investimenti su una delle più belle case della salute delle Marche. Oggi ci sono dei soldi per rafforzarla, potenziarla nel PNRR che sta discutendo il Consiglio regionale proprio in questi giorni. Credo al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore Saltamartini, di vedere se si riesce a rinserirla, perché nella prima ipotesi parrebbe che non ci sia, anche se l'Assessore si era un po' impegnato. Quindi è importante perché qui ci sono più di 50.000 abitanti in questi 4-5 comuni. La Casa della Salute si può fare tutta la medicina generale, del resto i fondi del Parlamento europeo dell'Europa sono per rafforzare la medicina territoriale e non strutture ospedaliere. Le strutture ospedaliere devono essere efficienti, ma se tutti i servizi importanti si fanno dentro le case della salute o gli ospedali di comunità, è chiaro che uno non va nell'ospedale generale se non per le materie molto acute. Quindi medicina del lavoro, medicina sportiva, consultorio familiare, tutte attività che dovrebbero essere fatte. E poi l'apertura sabato mattina. Tutti gli uffici sono aperti, quelli comunali, non si capisce perché non deve essere aperta. E poi la guardia medica, non si capisce perché uno deve andare a Pesaro se ha necessità in urgenza, intasare il pronto soccorso, perché poi se non la trovano nemmeno a Pesaro vanno a intasare il pronto soccorso. Vaccini, come sta andando la situazione per quanto riguarda la vaccinazione dei più piccoli, dai 5 agli 11 anni e non solo? Noi abbiamo ringraziato la regione, i dirigenti delle strutture che si sono adoperati, i medici pediatri, i medici di medicina generale che hanno consentito di fare i vaccini ai bimbi fino a 10-11 anni, diciamo al mattino, e diciamo per gli adulti, per la terza dose, quindi due giorni a settimana, mercoledì e venerdì abbiamo ricordato e diciamo abbiamo detto ok, finalmente si è capito che è importante. E poi se si potesse fare come è avvenuto fino adesso, i tamponi, hanno dovuto andare a pagare nelle farmacie, c'è una struttura pubblica che lo può fare gratuitamente, non si capisce le ragioni per le quali la struttura non debba funzionare al meglio.